La Siberia è proprio dove lo sciamanismo in senso stretto è nato e dove il fenomeno sciamanico è ancora presente nella sua autenticità oggi. E perché noi vogliamo venire ad assistere a questo fenomeno? Perché sentiamo questa necessità di essere in contatto con gli sciamani? Perché lo sciamano rappresenta un modo di percepire la realtà molto diverso da quello al quale noi siamo stati abituati attraverso quel grande processo di condizionamento che più chiamano educazione nella nostra civiltà. Grazie a tutti.